Sto pensando a come dovrei buildare Ertha per giocare con Jade 8 Cioè o faccio Ertha veloce, 136 di speed E me ne sbatto dell'estate e la uso solo come... La uso come catalizzatore per Jade Rubiamo le Relicaratio Vediamo che succede Rubiamo le Relicaratio e vediamo cosa succede Spai, fammi vedere le staff come sono messe Boh, ok Ok, allora, il team di base sarebbe questo Ma in realtà... Ok, questo è il nuovo team Volano Cose Parte 2 Ma a senso topat, no io Robin però Mi sono perso qualcosa Ertha il Pioneer Ma chi se ne frega di... Ma Ertha non deve fare danni Ertha deve caricare le stack a Jade No, non se ne frega niente di quanti danni Ertha non è importante Ertha è qui solamente per dare le stack a Jade Onestamente Qual è la musica giusta per Jade? Madonna mia Meno male che c'è Jade va Ok Ok Ok, ok Ok Non male Non male Non male Ma in che senso Lucky? No, deck per tetro Bene, bene, bene Allora Fa ultiamo E qua inizia la fiesta No, non è vero Non inizia niente Ma il punto è Guarda, 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 guarda Guarda che inizia Guarda che inizia Guarda che inizia Guarda, guarda, guarda Che roba Fermi 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 Abbiamo un team Abbiamo un team Abbiamo un team Nooo Nooo È finita È finita, è finita Non abbiamo più un team Non abbiamo più un team Ok, non è vero Non è vero Oh, non è male Oh, non è male Fermi Non è male Fermi Ma aspetta un attimo Oh, siamo Ok Eh, devo fare la skill di Jade qua No, non ancora Ok Aspetta 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 Oh, è un treno È tutto bellissimo Oh, questa è una voluta ulti Vabbè In realtà va bene Eh, tanto non evocava comunque niente Ok Ma sappiamo pure le ulti di Robin Non ce l'ho Non ce l'ho Lucky Però Aerta fa troppo Fa troppo figo per evitare Questa Ma in realtà Comunque No, Duma Comunque 70k single target Sbirillina Ah no, c'è Robin Non è vero Anyway Anyway Va bene Oh, però No, Robin Com'è che sta finita la ulti? Robin Evo chi cose Evo chi cose Grande 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 Quante ne sa Raga Serta Jade Chiudono in 3 cycle Non ce la fanno Comunque Spoiler Spoiler Ah Ah Oh Oh Madan Oh Madan Oh Sì Nooo Vabbè comunque Deve evocare più gente Argenti Ok 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 Ok